Personale delle volanti è intervenuto in zona Cibali a seguito di una richiesta da parte di una donna, la quale segnalava la presenza dell'ex compagno all'interno della sua abitazione, riferendo anche di temere per la propria incolumità a causa degli atteggiamenti aggressivi dell'uomo, peraltro abituale assuntore di sostanze stupefacenti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno proceduto a identificare la donna e l'uomo un pregiudicato, il quale, approfittando dell'ingresso di un operaio appena arrivato quella mattina per svolgere alcuni lavori, era entrato a casa della donna. Dagli accertamenti effettuati, l'uomo risultava essere destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna. Inoltre allo stesso, era stato recentemente notificato un ammonimento del questore per atti di violenza domestica. In relazione alle condotte tenute, l'uomo è stato arrestato e tradotto in carcere per atti persecutori e per la violazione delle prescrizioni imposte con le misure cui era sottoposto.